ricceri Quinta corza Bella chi su sole Andrea Sanna Carlo Sanna C'è stata questa variazione numero 2 è Borghesia con Marco Pitti La grigia Audace da Clodia con Alberto Ricceri Dubbia è stato sostituito Da Raya con Walter Cusceddu e poi abbiamo Zio Fester con Giuseppe Zette Quinta e sono sicuramente importantissimi in questo mondo ogni tanto tendiamo a dimenticarli invece senza l'amore e la passione dei proprietari qui non ci sono le variazioni ripetiamo, bella che su sole non è montata a Carlosana ma da Andrea Sanna e il cavallo con Walter Cuscietto non è giustico ma è al Rai che era già stato no 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 è un'ulteriore variazione ah un'ulteriore variazione ok proviamo ah forse si volca mi piace un'altra volta l'ingresso all'interno dei canapi non risponde a quello di coscia ma viene viene deciso sorteggiato non ci ferma l'immediata l'immediatezza trovo vabbè l'errore ci sta via bella che sul sole buon che sia audace da gloria al Rai zio fester ok si fa scendere meglio il peso si è messo davanti la data was really Zed 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 ragazzi piano piano che mi fai scordare la parte piano piano no mi fai come la stella piano no 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 Mossa invalidata, bella chi sul sole e borghesia, andace da Claudia Arraio, zio fleste. Arraio è andato a sostituire il dubbio con il numero 4 di conoscenza. Passando in questo momento di fronte alla mia postazione, Arraio con le malte di scelgo. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Torna sotto, piano, 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 piano. Riceri torna sotto, calma, calma, riceri in posizione, piano, non riuscire, non riuscire, e piano, 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 fermi, attenzione. Niente, abbassamento precauzionale del campo, tutto da rifare. Provo, lui. Ragazzi. C'è andato lo spiccoio, là. Grazie, sono voi se la rete e mi si muove in tutta. Io vi ho detto, alzò il pollicino. Ma io adesso. Ma avevamo preso un bel trend, anche perché c'è loro, non mi piace. Ci abbiamo questa e altre? Altre c'è sì, speriamo di recuperare un attimo. Per concludere senza pioggia, giusto per quello, non per altro. Allora, ci dici, ci dirai una retturina? Ripetiamo i cavalli della quinta corsa. Allora, se non ci sente nessuno, allora il numero uno. L'elenco che ho appena detto, non è quello poi di ingresso all'interno della zona di partenza, ricordiamo che tra l'altro non c'è nessuno di corsa. Poi c'è il cambio di monta, abbiamo detto il cambio di monta di, non era Carlo Sanna, ma Andrea Sanna, che vediamo fatta la giubba, il lupo, la stella, le maniche bianche. Ma può stancherire? No, pensavo che la prima. No, 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 questo giubano. L'hai dato qui? Riceri. Lucedu. Buona, buona con la prima posizione di Giuseppe Z, Zio Fester, mette in terza Zio Fester. C'è Marco Vitti e Borghesia in terza, la seconda è per Carlo Sanna, che prova ad attaccare, perdonatemi, per Andrea Sanna, che prova ad attaccare per linee esterne. Ancora in prima c'è Zio Fester con Giuseppe Z, Zio Fester prova anche Borghesia, con le picchi all'interno, ma c'è Puschedu con Arraio, che tutto all'esterno guadagna la prima posizione, per ora è un testa a testa, la Giuseppe Z che va per Puschedu, Arraio, che va in prima posizione, Arraio in prima posizione, la seconda è per Zio Fester con Borghesia, ancora Arraio, Arraio in prima che guadagna lunghezze, Arraio sul Zio Fester, Arraio con Buschedu, Zio Fester con Giuseppe Z, la terza è per la grigia Borghesia, con Marco Vitti. Continuo giro, ancora c'è Walter Puschedu in prima posizione, la seconda è per Zio Fester, guadagna metri Arraio sugli inseguitori, ci prova da dietro anche Andrea Sanna e ancora Arraio con Walter Puschedu in prima, siamo nella retta che precede l'arrivo, con ancora a condurre Arraio che va per Puschedu, la seconda è per Zio Fester e Giuseppe Z, la terza posizione è per Borghesia e Marco Vitti. Benissimo, ha vinto facile facile, Walter Puschedu, questo va a Arraio, ha fatto anche così? Sì, certo, tutto il gineo, tutto il gineo. Il gineo, il gineo, questa è come la vostra presente, oh, dispettoso, non c'è stata. Storia. Storia, quando l'ha mosso e prima viene un altro passo. Ok, siamo a posto, ora aspettiamo la sesta, ora va a fare l'intervista. Al volo, bene, a fra pochissimo.